buongiorno tutti oggi volevo presentare nuovo motivo molto bello semplicissimo solo quattro giri questa compresa anche parte di di rovescio come io adesso prova a girare per fare vedere cosa è vero molto molto bello si può usare questo motivo per cardigan per malione malioncine copertine e altra cosa ragazze come voi voi guardate come voi guardate questa questa motivo si può usare anche come come decorazione oppure per per bordino per cardigan anche così oppure si può fare con questa maniera come voi guardate già non mica bisogna fare giri per bottoni perciò qui c'è tutto e anche come voi guardate come dentine è molto molto bello quattro giri questo questo motivo compresa anche parte di di rovescio guardate molto 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 bello questa dalla parte di diritto e adesso faccio vedere dalla parte di rovescio guardate anche dalla parte di rovescio non è mica mica brutta perciò come voi preferite oppure potete usare come dalla parte di rovescio anche questa carina è così come dire sincera a me un po piace dalla parte di rovescio è così e adesso cominciamo con voi insieme e altra cosa ragazze io sempre dico cosa si può fare malione malioncine tutto però tanto dipende dalla nostra fantasia noi passiamo dall'un motivo fare sessi cosa sessi cosa guardate bello e adesso cominciamo con primo giro questo io ho fatto io è chiaro e adesso noi facciamo cominciamo dal primo giro continuiamo e adesso prendete ferie la parma e che mi chiamo a fare provino nostra schema quattro mali e guardate uno due tre quattro questi quattro mali e cominciamo prima mali e facciamo diritto un citato due mali insieme diritti e diritti e diritti e diritto queste quattro nostre mali e 1 2 3 4 continuiamo un diritto un citato due mali e insieme come diritti e mali e diritto continuiamo nostra schema una mali e diritta un citato due mali e insieme come diritti e diritto continuiamo un diritto un citato due mali e insieme verso sinistra due mali e insieme verso sinistra un diritto guardate che bello continuiamo un diritto un citato due mali e insieme verso sinistra un diritto questo primo giro adesso ci vediamo con voi nel giro numero due parti di rovescio giro numero due dalla parte di rovescio questo giro tutti mali e vanno rovescio e anche e anche quale un citato guardate un citato anche va rovescio tutti mali e vanno di rovescio e anche come guardate un citato anche va rovescio e così ci vediamo nel giro numero 3 parte di diritto abbiamo fatto giro numero 2 e adesso facciamo giro numero 3 ricordate bello ricordate bene cosa noi abbiamo schema 4 maglie che minciamo queste nostre 4 maglie 1 2 3 4 prima maglia va diritto questo come voi guardate tra traforato un buco io prendo dalla buco altra maglia metto sopra metto sopra guardate questi questi due due maglie guardate bene questa abbiamo messo e adesso andiamo andiamo mezzo seconda e terza tiriamo maglia un citato e diritto guardate dalla una maglia noi abbiamo fatto 3 1 2 3 e questa quarta questa nostra schema quattro maglie ripetiamo un diritto questa come traforate io entro prendo maglia metto sopra metto sopra metto sopra questa maglia e questa era un citato mettiamo sopra e adesso mezzo seconda e terza tiriamo maglia un citato e adesso facciamo diritto 1 2 3 4 e adesso voglio ancora ripetere per fare vedere nostro amativo un diritto un diritto 1 2 3 4 così questa dove traforato dove buco io entro prendo lana metto sopra e adesso diventate due mezzo questi questa e mezzo terza io entro così guardate prendo lana faccio un citato e questi due insieme faccio diritto un diritto un diritto un diritto ripetiamo ragazzi questa nostra quattro maglie questa qua dal primo giro qui era un citato dopo abbiamo passato abbiamo fatto parte di rovescio e diritto e adesso questo questo diritto perciò prima maglia va diritto seconda io vado prendo lana metto sopra e adesso questa era una adesso è diventata come due mezzo questa questa copia e terza male io entro prendo come diritto un citato e questi due insieme faccio diritto terza terza e quattro ripetiamo un diritto io entro prendo lana aggiungo per aggiungo nella questa maglia e adesso vado mezzo mezzo loro due così tiro faccio un citato e solo dopo faccio due insieme due insieme a quale era questa era un citato e questo noi abbiamo aggiunto e adesso facciamo insieme terza va diritto e quarto va diritto questo giro numero 3 adesso come voi voi guardate qui va questa muccia questa muccia questa e questa muccia adesso giriamo verso parte di rovescio e facciamo insieme giro numero 4 parte di rovescio questo è l'ultimo giro allora nostra nostra motiva questa una due tre e quattro come voi vedete questa muccia quale noi abbiamo dalla una abbiamo fatto fatto 3 e adesso guardate come noi dobbiamo comportare questi quale quarta e terza facciamo rovescio questa quale noi abbiamo fatto mucchio 3 1 2 3 noi facciamo insieme tutti 3 facciamo come diritti e quale era male prima facciamo rovescio e tutto 1 2 3 4 ripetiamo nostro motivo un rovescio secondo rovescio e questi tre facciamo insieme insieme coinvolgente rovescio. Ripetiamo il nostro schema, un rovescio, seconda rovescio, queste dalla una abbiamo fatto tre, facciamo diritti, insieme a tutti facciamo diritti, un rovescio, ripetiamo, un rovescio, seconda rovescio, dalla una abbiamo fatto tre, noi adesso facciamo tutti insieme diritti, un rovescio, abbiamo fatto giro numero quattro e ci vediamo nel giro numero uno e adesso bisogna camminciare dal giro numero uno, guardate, e adesso bisogna camminciare dal giro numero uno e questo giro uno come noi abbiamo fatto con noi, prima abbiamo fatto diritto, un citato e questa seconda e terza abbiamo fatto insieme, un diritto, come noi abbiamo fatto con voi, ripeto, un diritto, un citato, questa seconda e terza noi facciamo insieme come diritti, un diritto, 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 un diritto. E così continuiamo ragazze. E così noi continuiamo, come io ho fatto vedere voi, giro uno, gira seconda, fanno tutte le parti di rovescio, dopo il giro numero 3 questa parte di diritto è rovescio. E tutto, non voglio ripetere perché io già ho fatto vedere voi tutto. Ragazzi, io auguro a voi buon salute, fortuna e buon lavoro. Come dice Papa, pregate anche per me. Grazie, arrivederci. Grazie.